Ciao e benvenuto, sono Daniel e con questo video ti ufficializzo che martedì Affiliate Dominator sarà online e voglio lasciarti una mia testimonianza, piccola parentesi, un saluto da Sally e comunque ti lascio la mia testimonianza e voglio dirti che se stai cercando di aumentare il tuo business vendendo più prodotti con l'affiliate marketing, Affiliate Dominator fa per te sono tre settimane che sto sfruttando, imparando e applicando questo sistema messo a puntino da Nicola Mijailovic e veramente non ce n'è per nessuno, è qualcosa di veramente eccezionale la cosa ancora più bella e particolare è il supporto che loro ci offrono e ci danno infatti come comprerai Affiliate Dominator verrai subito aggiunto al gruppo ufficiale Facebook dove già lì avrai già un grandissimo supporto in più si organizzano webinar settimanali ovviamente possono partecipare le persone solo che hanno acquistato il programma comunque webinar settimanali dove si partirà dalla base da proprio dalla base, quindi da zero per arrivare a 10 al punto massimo magari dove inizia ad avere già grandi risultati quindi anche tu che magari non sei esperto o esperta in Affiliate Marketing non ti preoccupare perché verrai seguita fino ad ottenere i risultati non ti preoccupare ed è questa la cosa più bella perché oggi non si ne trovano online di prodotti simili dove vieni seguito step by step fino al tuo successo e infatti da questo ho capito che sono persone veramente eccezionali e di gran cuore perché io ho imparato una cosa che il nostro successo passa inesorabilmente attraverso il successo degli altri e loro questo lo fanno e lo applicano veramente molto bene anche Sally ti sta dicendo martedì compra Affiliate Dominator ok ti ringrazio per la tua attenzione e mi auguro di vederti presto all'interno del gruppo facebook ufficiale ciao